Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività a scuola anche l'estate. Gli anni interessati sono 2023-24 e 2024-2025 ed è per le scuole primarie, secondarie, statali e paritarie, non commerciali. I numeri potranno essere ampliati grazie ad accordi con associazione antilocale e università. Chi è già al lavoro, nonostante abbia preso l'incarico da pochi giorni, è neo-assessore regionale all'istruzione Roberto Sant'Angelo. L'opportunità data dal governo è molto importante per le famiglie e gli stessi studenti e la regione, d'accordo con l'ufficio scolastico, è già al lavoro. Una bella notizia in cui lo Stato nazionale, il ministro dell'istruzione e del merito, mette a disposizione delle scuole e degli enti locali 400 milioni di euro per delle progettualità, appunto, per avere le scuole aperte nei mesi di luglio ed agosto. Quindi si vanno a conciliare i tempi famigliari e delle famiglie che molte volte l'estate hanno difficoltà nella gestione familiare. Quindi le scuole si aprono al mondo del sociale, del territorio e delle famiglie e insieme alla regione che proverà a fare la cabina di regia, proverà a fare dei progetti pilota all'interno delle scuole di tutte e quattro le province per andare incontro proprio alle esigenze delle famiglie sulle linee di guida che ci vengono dettate dal ministero. Ecco, si parte subito già da quest'estate? Si parte subito sì da quest'estate perché il progetto è su questa annualità e la prossima è sperimentale. Penso che si vada proprio incontro alle esigenze familiari. Tante volte l'estate sentiamo parlare di queste problematiche. Il Governo nazionale ha fatto una misura importante perché 400 milioni sono una risorsa importante da destinare a questo scopo. Vedremo nei prossimi giorni insieme al Provedimento Scolastico Regionale come calarlo nel nostro contesto.